Questa ondata critica di maltempo è terminata praticamente perché il motore che alimentava questa situazione, la depressione, si è attenuata, si è allontanata, quindi avremo un miglioramento graduale. Come aveva già previsto nei giorni scorsi, con il pomeriggio sera di domenica per il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli, finisce la pioggia che è imperversata sulla marca per il fine settimana della Befana. Anche il vento di Scirocco, che avrebbe creato le condizioni di marea e il forte innalzamento del livello del Sile, dovrebbe attenuarsi. I venti hanno avuto qualche rinforzo in questi giorni, ma si vanno ad attenuare e nelle prossime ore non sono previsti venti particolarmente forti. Sì, venti da deboli a moderati, ma non dovrebbero creare particolare problema, soprattutto sulla laguna. Tempo di miglioramento quindi, ma non aspettiamoci il sole per domani e martedì, perché il cielo rimarrà coperto. Il miglioramento porterà dei rasserenamenti, questo già da martedì, perché lunedì abbiamo ancora un po' di copertura, ma senza fenomeni. I rasserenamenti fanno sì che l'effetto sera delle nubi finisce durante la notte, quindi il terreno che ha accumulato il calore lo disperde velocemente. Le temperature si abbassano, andiamo sotto lo zero, saranno gelate diffuse, ma questo è il periodo normale per le gelate, quindi si partirà da meno 1, meno 2, meno 3 gradualmente, fino ad arrivare a sabato a meno 4, meno 4, quindi gelate anche piuttosto forti. Grazie. Grazie.